Anzi, che si fa? Diciamo una cosa, che se i talk show non sono di grandissima qualità, considerato che molto spesso nei talk show ci siamo noi, dovremmo chiederci se la qualità che manca è relativa ai talk show, è relativa alla qualità del nostro dibattito, delle nostre proposte, delle nostre idee. Vostre del Partito Democratico e della politica, di chi trova a interloquire come stiamo facendo questa sera, di chi si pone di fronte alle cose con obiettività, senza recitare parti da una parte e dall'altra, tifosi e controtifosi, per cui quando uno accende la televisione potremmo già noi quattro dire che cosa dirà da Torre o che cosa dirà il Renziano di turno, non è così che cresce un Paese in termini di opinione e dibattito di cultura e quindi da questo punto di vista io non do un giudizio positivo di ciò che molto spesso in prima serata guardo in termini di dibattito della politica, ma è una cosa che riguarda molto anche noi mi pare, non possiamo prendersi a convite. Quindi fa un po' di autocritica.